Ciao cari amici, il Trump non ha ancora vinto definitivamente alle elezioni negli Stati Uniti, evidentemente vincerà perché se i democratici proprio non cambiano all'ultimo momento, seguendo la strategia che hanno applicato in Moldavia, all'ultimo momento ricalcolando, riimpostando i numeri, inserendo all'interno i numeri fasulli raccolti durante le elezioni all'estero, se non succederà un broglio del genere, Trump sicuramente diventerà presidente delle Stati Uniti d'America e ovviamente cambieranno molto le cose in Europa, cambieranno parecchie cose rispetto all'Ucraina e anche se non è ancora iniziato questo processo, perché comunque se Trump vincerà non è che il giorno dopo cominceranno a cambiare le cose, lui ancora deve diventare presidente, non si capisce cosa succederà nelle Stati Uniti d'America, diverse riviste democratiche già hanno ampiamente parlato della possibilità di una nuova guerra civile, perché chiaramente nelle Stati Uniti d'America ci sono le cerche oligarchiche che per niente sono d'accordo con l'arrivo al potere di Trump, loro perderanno troppi soldi, perderanno troppo potere, hanno provato di ammazzarlo fisicamente, non ci sono riusciti e quindi probabilmente loro proveranno di applicare una politica di disobbedienza civile, utilizzeranno tutti i loro armi di comunicazione di massa che sono i giornali, le riviste, i canali televisivi e così via, e probabilmente cercheranno di stabilizzare il potere di Trump, tutti questi giochi comunque cominceranno se Trump realmente vince alla fine in queste elezioni e solo dopo, solo con l'inizio del nuovo anno, quando lui diventerà presidente, farà insediamento e comincerà ad applicare i pieni poteri, solo da allora lui avrà possibilità di iniziare a cambiare qualcosa se veramente vorrà farlo. Ma già adesso in Europa iniziano a diffondere le voci che preparano una specie di programma di abbandono dell'Ucraina. Noi abbiamo visto e sentito, io vi ho raccontato anche in uno dei video precedenti, su come la Polonia sta prendendo la nuova posizione nei confronti del regime ucronazista di Zelensky. Perché dico la nuova posizione? Perché, cari amici, si tratta di una posizione che i polacchi prima non hanno mai assunto. Prima loro hanno sempre dimostrato di essere alleati di Ucraina, perdonavano tutto agli ucraini anche il loro nazismo, anche la loro vicinanza alle idee di sostenere i criminali nazisti che sterminavano i polacchi stessi. Io vi ricordo che la Polonia è un paese molto strano comunque. Dal punto di vista geopolitico si tratta di un vero e proprio straccio con cui si può pulire qualsiasi porcheria, sporcizia e a quanto pare ai governanti polacchi piace così. Io non sto parlando del popolo polacco, non voglio offendere assolutamente i cittadini polacchi. So che tra di loro ci sono tantissimi che sono persone di buon senso, che conoscono bene la storia, conoscono bene la situazione in cui si trovano, non appoggiano assolutamente l'aggressione della Nato e così via. Però c'è una parte della società che invece è contenta di stare con i nazisti, contenta di combattere contro i russi, sono ultranazionalisti, sognano ancora un enorme impero polacco da mare a mare e ovviamente proprio sui loro sentimenti giocano molto anche i politici polacchi. Però perché dico che Polonia è un paese strano? Perché in un canto vogliono diventare un grande impero di nuovo, vogliono assumere una posizione importante nell'est Europa, vogliono diventare una specie di caporali degli schiavi anglosassoni nell'est Europa. Per questo motivo attirano i soldi della Nato, progetti della Nato, vogliono diventare anche il terreno di disposizione delle truppe della Nato più ampio di tutta l'Europa, addirittura vorrebbero superare in questo la Germania, ma allo stesso tempo loro, polacchi, che sono molto nazionalisti per l'indole proprio, cioè fa parte del carattere polacco, se noi ricordiamo il carattere politico polacco si è espresso in maniera perfetta durante l'epoca di Pilsudski. Pilsudski che era anche amico, intimo e in qualche senso collaboratore di Hitler, con il quale Hitler ha fatto un patto militare secondo il quale Polonia con la Germania dovevano invadere l'Unione Sovietica prima di 1940. Questo patto è stato fatto, se voi ricordate, nel 1934, è un patto abbastanza esplicito, potete tranquillamente leggerlo, c'è in rete, ci sono delle fonti, io comunque ho già anche condiviso qualche video nel quale ho raccontato di questo patto molto interessante, perché la storiografia anglosassone che prevale qua in Europa e che vi racconta le balle bagianate sul mondo e anche sul vostro paese, sull'Italia, perché molti italiani non conoscono bene la storia del proprio paese, perché la studiano nelle università, nelle scuole che sono dominate da professoroni che dipendono dagli anglosassoni, quindi vi raccontano in maniera distorta anche la vostra stessa vita. Ovviamente loro non conoscono neanche la storia della seconda guerra mondiale, di ciò che è successo in Europa, pensano che hanno vinto gli americani la guerra, dei russi non si parla assolutamente, anche se è il popolo che ha vinto la seconda guerra mondiale, che ha avuto più morti, che ha dato la propulsione più importante per la vittoria contro il nazismo, di questo in Italia assolutamente a livello ufficiale non si parla, perché si insegna che sono stati gli anglosassoni a vincere questa guerra. Ovviamente anche sulla partecipazione di Polonia, Polonia che da sempre è stata un po' la mignotta di tutti, è andata con i francesi, con gli inglesi, con i tedeschi nazisti, ha per un periodo strezzato l'occhio a quella che era la Germania nazista di Hitler. Questo paese veramente ha nella sua indole servire a tanti padroni pur di essere contro i russi e pur di sviluppare il proprio impero su questo territorio. E proprio nel carattere polacco essere nazionalisti, con Pilsudski, con la sua regime di sanazia, diciamo che il carattere politico, ripeto, sottolineo, non sto parlando dei cittadini polacchi, sto parlando di carattere politico polacco. Quindi nel carattere politico polacco c'era questa tendenza di essere servi di molti padroni, allo stesso tempo nazionalisti. E ovviamente il nazionalismo polacco rimasto, ancora esiste e oggi noi vediamo diversi nazionalisti polacchi che vanno in Ucraina a combattere dalla parte degli ucronazisti, ma io dico è un paese molto strano perché è un nazionalismo molto strano. I nazionalisti polacchi che ad un canto cercano di combattere per la libertà, come dicono loro, del proprio paese, per l'indipendenza del proprio paese, per la sicurezza del proprio paese, si sono agliati con coloro che massacravano storicamente i loro fratelli. Cioè ucronazisti che sono stati da sempre nemici dei polacchi, che hanno massacrato durante la seconda guerra cittadini polacchi che erano presenti sul territorio della regione di Walin, che hanno fatto crimini peggiori contro i polacchi, oggi sono amici dei polacchi. Quindi, ripeto, è una cosa strana e malata già dall'inizio, quindi quando noi cominciamo a parlare dei rapporti tra Polonia e Ucraina, noi stiamo parlando di una perversione politica. È come un rapporto perverso, è come cercare di capire e scavare nei rapporti malati, incestuosi oppure perversi, dove per capire certe cose dobbiamo mettere da parte la logica e la normalità. Dobbiamo comprendere dall'inizio che si tratta di qualcosa di malato, qualcosa di incestuoso, qualcosa di completamente rivoltante, qualcosa che non ha a che fare con la ragione ma legato a qualcosa di malvagio della natura umana. Questo, in grande linea, è il senso della politica polacca. I polacchi politici, i loro rappresentanti del potere, non fanno gli interessi del proprio popolo, non fanno gli interessi della Polonia. Loro hanno queste idee malvagie, incestuose, perverse, non capiscono dove stanno andando, non riescono a comprendere quale sarà il futuro del loro paese, ma credono che la cosa migliore è continuare a leccare il di dietro al più forte. Adesso il più forte, loro hanno scelto l'idea che il più forte è la NATO e sono gli Stati Uniti d'America, quindi leccano il di dietro a loro e siccome la NATO e gli Stati Uniti d'America le hanno detto che devono prestare, diciamo, il loro servizio agli ucronazisti, perché ucronazisti per la NATO e per gli Stati Uniti d'America attualmente è un'arma contro la Russia, quindi i polacchi a testa bassa vanno a collaborare con gli ucronazisti. Così è andato avanti per un po' di tempo, però adesso, siccome gli ucronazisti hanno dimostrato di non essere in grado di vincere una guerra contro i russi, hanno dimostrato di non essere in grado neanche di raggiungere un serio obiettivo di questa guerra. Unica cosa che loro riescono, diciamo, a garantire agli Stati Uniti d'America è la durata di una guerra e questo, diciamo, un obiettivo minimo, perché la base di ogni accordo di guerra che fanno Stati Uniti d'America con i paesi dove loro fanno la guerra e la lunghezza, la durata di conflitto, perché il sistema anglosassone a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando loro hanno capito che la guerra è un enorme affare e attraverso la guerra si risolvono tutti i problemi interni economici, questo in realtà hanno capito già molto prima, già durante la Prima Guerra Mondiale, solo che all'epoca il loro sistema economico non sapeva ancora bene, non aveva ancora grande integrazione politica per poter mettere in campo esperienze che loro hanno raggiunto nella Prima Guerra Mondiale, però nella Prima Guerra Mondiale è stata un'illuminazione per il capitalismo anglosassone, hanno detto cavolo, noi non abbiamo capito niente, noi stavamo a inventare i metodi per come gestire questo mondo, ma la risposta è questa, la grande guerra, noi dobbiamo fare le guerre, noi dobbiamo creare un'associazione di paesi che vengono governati dalla nostra oligarchia, associazione militare e con questa associazione militare dobbiamo organizzare più guerre possibili, e non ha importanza la vittoria, non dobbiamo vincere, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo portare una guerra e farla diventare lunga, poi sviluppare un'altra, terza, quarta, una finisce, noi comunque abbiamo un'altra guerra in corso, e così noi riusciamo a portare enormi profitti nelle proprie tasche. Così tra l'altro è stata creata la Nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la scusa del pericolo sovietico, perché vi ricordo che i sovietici non rappresentavano pericolo in realtà per mondo occidentale, i sovietici volevano integrarsi, Stalin era uno dei primi che ha proposto agli anglosassoni un'associazione militare congiunta per gestire il mondo insieme, una specie, un analogo della Nato, però con all'interno l'Unione Sovietica, loro hanno declinato questa proposta. Quando loro hanno creato la Nato, Stalin ha chiesto a loro di fare entrare l'Unione Sovietica nella Nato, e loro hanno detto di no. Allora a quel punto i sovietici hanno creato il patto di Warszawa, il patto di Warszawa è stato creato dopo la Nato. Comunque, cari amici, il senso in tutto questo della Polonia è garantire all'Ucraina la possibilità di prolungare questa guerra. Gli ucraini, come ho detto, sono falliti in gestione di questa guerra. Loro non sono riusciti a portare avanti nessun obiettivo serio, non hanno preso nessun tipo di obiettivo strategico sul territorio della Russia, non sono riusciti a indebolire la Russia economicamente, non hanno sconfitto la Russia sul campo di battaglia e non hanno portato all'inglese la Crimea, ciò che volevano gli inglesi, questa penisola che dal punto di vista geopolitico è una vera e propria roccaforte nel Mar Nero. Chi gestisce la Crimea gestisce il Mar Nero e quindi gli inglesi la vogliono. Gli ucraini non sono riusciti a portarla a casa, gli inglesi sono infuriati, ma comunque continuano a sponsorizzare questa guerra sperando che a lungo termine comunque porterà almeno dei profitti da guerra. I polacchi in tutto questo giustamente stanno dalla parte delle anglosassoni e quindi stanno con gli ucraini, ma stanno con gli ucraini contro la propria indole politica storica, perché i polacchi sono nazionalisti e il nazionalismo polaco non può perdonare agli ucraini quello che gli ucronazisti hanno fatto ai polacchi durante la seconda guerra mondiale, però comunque ingoiano questa offesa storica e a testa bassa vanno avanti. Ma i tempi cambiano, le situazioni cambiano, adesso noi vediamo che sta cambiando la situazione negli Stati Uniti d'America, probabilmente gli americani smetteranno di finanziare l'Ucraina. Perché lo faranno? Perché gli americani, come già vi ho spiegato prima molte volte, loro sono una società fondata solo e soltanto sull'idea materialista, capitalistica della vita. Loro non hanno un'idea basata su nazionalismo oppure sull'idea dell'esistenza di un dio, non sono una nazione organizzata come le antiche nazioni in base all'idea dell'esistenza di qualcosa di superiore. Loro sono fondati sulla vuota idea del consumismo. Questa è l'indole degli americani. Infatti gli americani è la periferia del mondo occidentale, la periferia diciamo più propulsiva ma più ignorante e meno acculturata. Cioè l'Occidente ha messo negli Stati Uniti d'America il peggio del suo periodo moderno e questo periodo moderno negli Stati Uniti d'America ha fatto uno sviluppo molto più veloce rispetto al periodo moderno che si è sviluppato sul territorio dell'Europa occidentale. Perché in Europa occidentale c'erano ancora contropesi antichi, c'erano ancora i valori, c'era ancora tradizionalismo, perdonatemi, che non ha permesso al nuovo mondo, al nuovo tempo, come diceva Nietzsche, di uccidere Dio. A me fa ridere che molti riportano questa frase di Nietzsche sull'uccisione di Dio spesso senza completarla perché parlano della morte di Dio, dicono Dio è morto e basta. Ma Nietzsche in realtà questa frase l'ha continuata, la frase dice così, lui dice Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso, io e voi. Questo è il senso del mondo moderno, il mondo moderno ha ucciso Dio, il mondo moderno ha creato materialismo, il mondo moderno ha eliminato completamente l'idea dell'esistenza di Dio, di un grande dopo e ha concentrato tutto nel presente, tutto sull'uomo, sul consumismo e così si è creato il mondo statunitense. Per questo motivo, cari amici, degli Stati Uniti non dovete aspettare niente di quello che è legato di solito alla tradizione, non pensate che loro si preoccupano di libertà di qualcuno, del benessere di qualcuno, che tutte le balle che vi raccontano che loro stanno andando in Afghanistan per salvare le donne che portano burka, ma sono le cavolate, loro si interessano solo e soltanto al benessere proprio e al denaro. Quindi se loro vanno da qualche parte, lo fanno solo per guadagnare, non gli interessa nient'altro, tutto quello che vi raccontano, tutte quelle scuse ben pensanti, è solo per convincere voi che loro stanno facendo qualcosa di bello, buono, che loro sono dei palladini della libertà e democrazia. E ovviamente avendo questa visione del mondo completamente consumista e legata al principio di commercio, Stati Uniti d'America non amano perdere, non amano perdere perché per loro la perdita è una perdita di soldi, di denaro. Loro non vogliono perdere denaro, loro vogliono guadagnare denaro. Se loro investono in un progetto, vogliono vedere che ritorno i soldi, se loro buttano i soldi per troppo tempo ma non ritorna niente e il progetto di guerra comincia a costare di più di quanto denaro produce, gli americani perdono l'interesse, gli americani cominciano a guardare dall'altra parte. In effetti ciò che noi stiamo vedendo adesso, l'arrivo al potere di Trump, sostegno a Trump, cari amici io vi prego ascoltate le mie parole e cercate di ragionare su ciò che io dico perché io condivido i miei pensieri con voi sperando che questo crea in voi un po' di voglia di approfondire. E quindi se io vi dico che vittoria di Trump negli Stati Uniti d'America non dipende dalla volontà del popolo americano di cambiare il mondo in meglio, di fermare le guerre, no, assolutamente, non pensate che Trump è un bene. Trump, semplicemente l'espressione normale di un popolo, di una società fondata sul becero interesse commerciale, al fallimento commerciale della loro società durante precedenti esperienze. Fine. Loro hanno visto che non hanno guadagnato abbastanza oppure anzi hanno perso parecchio durante il governo dei democratici e quindi adesso la società americana porta a galla un personaggio che secondo loro risolverà tutto e farà guadagnare. Dietro non c'è tradizionalismo, tutto quello che loro raccontano, la lotta per tradizionalismo, il rispetto per la cultura di base, tutto questo sono tutte balle. Loro in realtà si interessano solo e soltanto a continuare, consumare così come loro consumavano prima. L'unica idea che fa tremare gli americani è che loro da domani dovranno cambiare le loro abitudini, le abitudini di consumo. Prima siamo stati in grado di comprare le macchine a grossa cilendrata, bruciare tonnellate di benzina per proprio divertimento, adesso non potremo più fare. Questo è l'incubo dell'americano, non il fatto che a Gaza muoiono bambini, in Ucraina muoiono le persone, in Taiwan nella zona c'è rischio di una guerra, in Africa c'è la povertà. Loro di questo se ne sbattono. Il mondo può bruciare e morire, anche voi europei, potete marcire nella vostra fecia, non li interessa niente. Voi per loro siete sudditi, punto e basta. Sudditi che loro devono spremere per poter divertirsi, per poter consumare, per poi farvi vedere nei loro show televisivi come è divertente di girare il mondo, essere spavaldi, girare mezzanudi, fare i gay pride, fare grandi lotte per i diritti astratti. Tutta questa idiozia viene condivisa perché loro in questo modo vi vogliono convincere che loro hanno ragione dal punto di vista morale, ma loro la morale non ce l'hanno perché colui che vive consumando, colui che ha scelto la filosofia di Epicuro del nuovo mondo, del mondo atomico, del mondo non c'è più spazio per Dio, loro non possono avere nessuna morale. Questi sono semplicemente dei consumatori, sono persone, la società dei quali si basa solo e soltanto sul commercio, basta. E per questo motivo, cari amici, i polacchi in questa situazione giustamente assumano una posizione da strumento. Loro sono strumenti in questa situazione attuale, ma improvvisamente Stati Uniti ed America dicono noi non siamo più interessati in realtà di portare avanti questo progetto. L'Ucraina, ma non rappresenta più l'interesse. Quindi adesso il nostro strumento, Polonia, un altro nostro strumento, l'Unione Europea, deve trasformarsi nel gestore. E questo già, cari amici, è una cosa grave, perché se prima strumenti erano pagati dal padrone, erano pagati da coloro che li usava per assumere una certa posizione politica, per fare certe scelte, adesso questi strumenti si trasformano nei gestori. Quindi loro devono prendere totalmente su se stessi, devono assumere le responsabilità e prendere, diciamo, tutti i rischi e anche tutte le spese. Ovviamente, inutile spiegarvi che i polacchi non hanno i soldi da spendere, i polacchi non hanno tutta quell'economia per mantenere la guerra in Ucraina contro la Russia. I polacchi non sono in grado di, diciamo, mantenere bene il loro di paese, perché se togliere adesso tutti i sussidi che loro ricevono dall'Unione Europea, se togliere tutti i soldi che arrivano dalle Stati Uniti d'America, Polonia non ha niente. Cosa può produrre Polonia? Niente. Non hanno grandi gestimenti di petrolio, gas, non sono geni dell'ingegneria, non è che hanno supertecnologie di semiconduttori come ad esempio quelli che hanno sviluppato a Taiwan e così via. Loro non possono sopravvivere da soli a quel livello geopolitico in cui sono stati portati quando erano strumenti delle Stati Uniti d'America. Se adesso Stati Uniti d'America le abbandona, sapete, è come una macchina lanciata a 300 km all'ora che improvvisamente l'autista si accorge che il serbatoio è vuoto. La macchina deve fermare, non può andare avanti. Quindi per questo motivo cominciano già a apparire online diversi segni di allontanamento dei polacchi dall'Ucraina. Di recente io ho fatto già un video in cui vi ho raccontato di questo grave allontanamento dei polacchi. Il loro premier ha parlato in maniera molto grave dell'Ucraina, poi il ministro degli esteri polacco si è espresso, poi il vice premier ha dato l'ultima battosta a Zelensky. Quindi si vede che Polonia sta allontanando. E anche Germania ha deciso di seguire questa linea. I tedeschi a quanto pare capiscono che loro, secondo i piani degli Stati Uniti d'America, saranno quelli che dovranno maggiormente sostenere la guerra in Ucraina. I tedeschi assolutamente non vogliono farlo. E già iniziano a fare una specie di preparazione dell'opinione pubblica per allontanamento dall'Ucraina. Così ad esempio ieri il giornale Bild tedesco ha diffuso una pessima notizia sicuramente per gli ucraini. Loro hanno detto che il programma governativo tedesco di integrazione dei rifugiati ucraini nell'ambiente lavorativo della Germania è fallito. I tedeschi sinceramente speravano che gli ucraini potevano iniziare a lavorare abbastanza presto in Germania, lavorando nell'industria tedesca, lavorando in vari luoghi, anche nel sistema sociale. Giustamente i tedeschi speravano di usare gli ucraini anche per il proprio bene, perché chiaramente ci sono molti lavori in Germania che i cittadini tedeschi non vogliono più fare. Lavori umili, pagati non tantissimo, però i tedeschi dicevano chi se ne frega, arriveranno gli ucraini, sono disperati, hanno la guerra sul loro territorio, noi li accogliamo qua, diamo possibilità di imparare la lingua, una volta che bene o male imparano la lingua, diciamo questi dieci comandi in lingua tedesca che bisogna dare agli schiavi e questi andranno a testa bassa a lavorare. Però non è andato così, i piani tedeschi non si sono, diciamo, verificati. Gli ucraini hanno mostrato che il lavoro onesta non li interessa affatto, preferiscono essere mantenuti dello Stato germanico nei limiti previsti da welfare e allo stesso tempo si danno agli affari illeciti. Secondo i recenti sondaggi eseguiti da Interpol, come lo riporta anche Bild, gli ucraini in Europa occidentale hanno attualmente la presenza più massiccia della criminalità organizzata di piccola e media dimensione, soprattutto come bassa manovolanza. Collaborano con le organizzazioni criminali dei vari paesi, si occupano di traffici di ogni tipo, droga, armi, esseri umani, si occupano di omicidi a pagamento, racket e anche frodi telefonici. Le prostitute ucraine hanno riempito per più della metà i bordelli e le strade dell'Unione Europea, lasciando indietro le colleghe di tutte le altre nazioni e quindi, cari amici, gli ucraini hanno dimostrato che sono propensi non al lavoro onesto, ma al lavoro che va oltre ai limiti della legalità. Attualmente circa 720.000 ucraini ricevono benefici sociali in Germania, tra cui circa mezzo milione di persone normodotate. I costi mensili per loro mantenimento ammontano a circa 539 milioni di euro, quindi ogni mese 539 milioni di euro spende la Germania per mantenere gli ucraini sul proprio territorio, immaginate questa follia. Nel 2023 il 20% dei diplomati del corso di integrazione, diplomati ucraini, cittadini ucraini che hanno fatto corso di integrazione, hanno studiato la lingua, hanno ricevuto un'afferta di lavoro dai centri per l'impiego sul territorio della Germania, ma nessuno di loro, ripeto, nessuno di loro si è mai presentato al lavoro, neanche uno. Questo lo riporta Bild, questo non è una propaganda russa, questo riporta il giornale Bild, sono i dati certi condivisi dai tedeschi. Questo è successo nel 2023, adesso nel 2024 le autorità tedesche hanno trovato il lavoro al 40% dei laureati ucraini, ma meno dell'1% di questi laureati si sono presentati al lavoro. E quindi, cari amici tedeschi, hanno riconosciuto il fallimento del programma di occupazione per i rifugiati provenienti dell'Ucraina, ma evidentemente non hanno prestato abbastanza attenzione agli slogan dei manifestanti ucraini su Euromaidan nel 2014. Quelli non chiedevano il lavoro onesto oppure la possibilità di vita in una società sana e onesta. Loro chiedevano semplicemente l'ingresso libero ed incontrollato sul territorio dell'Unione Europea, dove ognuno di questi aspiranti rivoluzionari voleva tentare la fortuna da filibustiere, di certo non per trasformarsi negli onesti lavoratori nelle fabbriche o per pulire le strade della Germania da spazzini ricevendo rispiccele e pagando le tasse. Loro volevano sfruttare tutti i modi illegali di guadagnare i soldi sul territorio dell'Unione Europea sapendo benissimo che in Unione Europea c'è benessere, c'è la richiesta per quello che gli ucraini potevano portare, cioè le donne ucraine tranquillamente diventano prostitute o mantenute, gli uomini criminali fanno traffici, vendono bambini e non si fermano di fronte a niente. E chiaramente di fronte ai guadagni che portano a questi personaggi che sono stati privati completamente della morale umana, ricordiamo che la gran parte degli ucraini, cari amici, sono le persone che ormai hanno attraversato anche il satanismo, gente che non crede in Dio, non ha valori, non ha alcuna visione umana di una società sana. Guardate che cosa hanno fatto con la loro società. Come si può ospitare a casa propria coloro che hanno sputato sulla propria Costituzione, che hanno sparato e lanciato le pietre contro i propri poliziotti, i propri rappresentanti della legge, che hanno massacrato i propri concittadini. Voi credete che questa gente rispetterà le vostre regole, le vostre leggi, la vostra Costituzione, la vostra polizia? Ma siete veramente talmente ingenui? In effetti i tedeschi adesso si stanno accorgendo di questo grave problema, stanno iniziando a parlare di questo, perché evidentemente adesso con il cambio di rappresentante politico nelle Stati Uniti d'America, l'Europa occidentale inizierà un braccio di ferro con Stati Uniti d'America per la gestione del problema ucraino e i tedeschi chiaramente vogliono già iniziare a dimostrare che non c'è nessuna possibilità di integrare gli ucraini in maniera onesta nel loro paese e per questo loro le devono mandar via. Mandar via, gli ucraini devono andarsene e morire in una guerra nell'interesse degli Stati Uniti fare qualsiasi cosa pur di non rimanere in Germania, perché di delinquenti, di prostitute, di farabuti e di truffatori in Unione Europea già ce n'è in abbondanza senza gli ucraini. E ovviamente questi sono i messaggi che sono molto importanti in questo periodo perché dimostrano come bruscamente sta cambiando il rapporto dell'Occidente nei confronti della questione ucraina in base al cambiamento che sta per arrivare all'interno delle Stati Uniti d'America. È una questione che va monitorata, bisogna seguirla, bisogna fare attenzione e anche molti ucraini onesti che vivono nei paesi occidentali, molti ucraini che in differenza alla gran parte dei loro concittadini non vuole occuparsi di criminalità, non vuole prostituirsi, non vuole vendere i propri bambini ai mercanti di organi. Loro dovrebbero prestare molta attenzione a questo caso perché probabilmente adesso cambierà, inizierà a cambiare un po' l'aria e l'atteggiamento nei loro confronti in Unione Europea e quindi dovrebbero stare molto attenti perché probabilmente nelle proprie case non saranno più sicuri perché come abbiamo già visto diversi paesi europei hanno iniziato a dire che sono pronti a estradare gli ucraini dai loro paesi in Ucraina per combattere da parte di Zelensky, per dargli possibilità di difendere il loro paese e quindi questo è anche un brutto segnale per quei ucraini che vogliono semplicemente vivere in maniera serena, onesta sui territori dei paesi dell'Unione Europea, devono fare attenzione, sta cambiando l'aria. Cari amici, come sempre alla fine dei miei video io vi invito di informarvi in maniera obiettiva, coerente su ciò che sta succedendo non solo sul territorio dell'Ucraina ma anche nella geopolitica in generale, sul mio canale privato Telegram, io di solito condivido tutto quello che viene nascosto, censurato oppure strumentalizzato dal nostro mainstream occidentale corrotto. Il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione a questo video. Se volete seguirmi su questo canale vi invito di iscrivervi, di commentare i miei video e di condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, per le vostre donazioni. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.